E' partita da Castel San Vincenzo la lunga corsa che porterà ben 13 comuni della provincia di Isernia, rientranti nella SNAE Strategia Nazionale Aerea Interne, in questo caso Aerea Mainarde, a poter utilizzare un finanziamento di oltre 2 milioni di euro per l'attivazione di progetti comunitari e soprattutto di sviluppo territoriale. Il secondo incontro con gli amministratori del territorio si è svolto nella serata di martedì all'interno della sede dell'Unione dei Comuni Alto Volturno, in località La Cartiera, sul territorio comunale di Castel San Vincenzo. I sindaci e gli amministratori presenti stanno già entrando nella sostanza della questione collaborativa. Le strategie dell'Aerea Mainarde, come specificato durante la riunione degli esperti dell'Unimol presenti, guidati dal professor Marchetti, riguarderanno tre argomenti principali, mobilità, istruzione e sanità. L'Università del Molise affiancherà gli enti locali nella parte tecnica dell'elaborazione delle strategie dei Comuni da portare a finanziamento. Il secondo step, dopo la prima riunione di martedì sera, sarà quello, da parte degli enti locali aderenti, ben 13 comuni almeno per ora, dell'adesione formale al protocollo di intesa elaborato da Unimol. Si passerà poi a gennaio, con l'inizio del 2018, a mettere in campo le idee, quelle vere, per l'esaltazione degli elementi più importanti del territorio mainardico in maniera univoca. Intanto i Comuni si sono già attivati per condividere percorsi insimbiosi per l'elaborazione di strategie comuni.